Sono l'amica di Mario e quindi volentieri presto la mia voce, che è la voce di una signora qualsiasi, ecco, perché vi voglio bene e noi ci conosciamo da tanti anni. Comincio con Ciao. Simentila di affarnarmi alla ricerca della felicità. Guarda in un raggio di sole che si specchia nel mare appena increspato, da un lieve soffio di vento, e il sorriso di un bimbo che curioso osserva il mondo e quella mano sconosciuta che ti dice Ciao. Poi, niente da dire. Cosa c'è nel silenzio? Troppe parole da dire, parole da ascoltare, troppo tempo da dedicare, troppo da fare. Silenzio. Forse non c'è più niente da dire. Fraternità. Uomo, chiunque tu sia non importa il colore della tua pelle, non importa quale Dio preghi, solo la tua bontà mi sta a cuore. Non fermarti mai, perfori la strada della vita. E se un nero, un cinese, un marocchino si uneranno a te, io mi unirò a voi. Ancora due, poi ho finito, eh. L'Emene. Il fiume che scorre per Porto Ruaro concordia che ha dei paesaggi meravigliosi che incontra lungo il suo cammino. Sei seduta sulle rive del Lemene, avvolta nella tua solitudine. Entrerò io nei tuoi pensieri, nello smarrimento di quella solitudine. Non ti domandare chi sono. Ti donerò la mia energia vitale. Il tuo pensiero può travolare verso di me, donna mia. Ti prego, dono un avvento. Fa che rivendi la mia forza di sopravvivenza. Grazie. 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 Grazie.